In riferimento alla maxi operazione Grandi Magazzini riferita al 22 giugno scorso nel quale coinvolse un imprenditore fanese accusato per frode fiscale internazionale nel settore del commercio di abiti e griffati, la direzione provinciale di Pesaro e Urbino dell'Agenzia delle Entrate, attivati a seguito del verbale della Guardia di Finanza, nello specifico l'attività istruttoria della GDF di Fano, hanno consentito di procedere al dissequestro delle somme necessarie al pagamento di quanto dovuto al fisco. Il dissequestro però riguardato solo una parte dei beni e delle disponibilità finanziarie sequestrati, anche presso un istituto di credito della Repubblica di San Marino, pari ad un valore effettivo di 11.686.000 euro, su un totale complessivo di 15.253.000 euro. Le somme sono riconducibili all'attività di un'organizzazione con centro logistico ed operativo a Fano e ramificata in diverse regioni italiane, finalizzata l'evasione fiscale internazionale mediante la creazione di un complesso schema comprendente più società, alcune delle quali ubicate in Lettonia e Lituania e attive nella commercializzazione di articoli di abbigliamento. 12 sono risultate le società coinvolte, 5 estere e 7 italiane, attraverso le quali, con articoli, schemi evasivi e fittizie e triangolazioni commerciali, perfezionati dal 2008 al 2015, sono state emesse fatture false per circa 55 milioni di euro, occultando al fisco imposte evasive pari a circa 23 milioni di euro. L'operazione, condotta anche grazie alle accurate indagini delle fiamme gialle, che hanno fatto emergere prove inconfutabili, hanno permesso alla direzione provinciale di Pesaro e Urbino, all'Agenzia delle Entrate, di recuperare totalmente le imposte evase attraverso la definizione integrale dei premi e accertamenti emessi nei confronti di sei società per 22 annualità. In particolare, è stato accertato che le società straniere vendevano capi di abbigliamento griffati in precedenza acquistati in stock dai fornitori ufficiali, a società di Fano, dove venivano effettivamente concentrate la merce. Con l'interposizione di società italiane, cartiere apri e chiudi, che fittiziamente acquistavano e rivendevano la merce agli equerenti finali a prezzi competitivi, consentendo loro di maturare anche un indebito credito IVA sugli acquisti.